Se la normalità vi pare strana, preoccupatevi. Il peggio sta per accadere. E non ci saranno limiti. È il giorno più bello della mia vita! Ho rubato 21 milioni di dollari che aspettavano a me. Ciao, è invisibile! Si dice invincibile, non lo sei! Una notte da Leoni 3, mercoledì alle 21, su 27.